Buona mercoledì 6 luglio, 7 del mattino, come sempre siamo pronti a vedere quali sono le principali notizie di questa mattina attraverso le prime pagine dei quotidiani nazionali e poi di carattere locale. Però prima di iniziare, come siamo soliti fare, diamo uno sguardo alle previsioni meteo attraverso il sito dello Smerarpa e come ci avvisano gli esperti partiamo innanzitutto dalla giornata di oggi. È previsto su tutte le zone cielo da poco nuvoloso a variabile, saranno possibili dei rovesci o temporali sparsi, sulla costa soffierà bora moderata, specie in serata. Per domani giovedì 7 sulle zone orientali della regione avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con bora moderata al mattino, poi venti a regime di brezza, sulla fascia occidentale sarà probabile invece cielo variabile. Sui monti, specie verso il Cadore, sarà possibile nel pomeriggio qualche locale rovescio o temporale. Iniziamo dunque il nostro confronto innanzitutto dalle prime pagine dei quotidiani nazionali a disposizione. Partiamo dal Corriere della Sera dove si parla di indagini che hanno coinvolto anche il Ministro Alfano. Così controllavano le indagini, leggiamo nelle carte le richieste al Ministro Alfano e lui uso politico della giustizia. I facendieri gestivano il programma che custodisce i segreti delle procure citato 1007. Dunque come ci ricorda il Corriere della Sera nuovi particolari emergono dalle intercettazioni dell'inchiesta romana sulla corruzione, favorire il consorzio servizi integrati in un appalto per la polizia e manutenzione di alcuni edifici della pubblica amministrazione. Lino Pizza ne parla in una conversazione intercettata nel gennaio 2015. Le banconote scambiate e contate dal faccendiere e dall'onorevole Antonio Marotta avevano una contropartita, viene affermato in queste righe. Dalle carte affiorano anche le richieste dunque al Ministro Alfano che replica un uso politico della giustizia. E poi in questa pagina le presidenziali statunitensi vediamo un'immagine tra Barack Obama e Hillary Clinton. Clinton non perseguibile per il caso e-mail, ci informa il Corriere della Sera, è stata assolta dall'FBI e fa campagna dunque con Obama. Sarebbe stata solo negligente, non può essere perseguitato. Dunque l'FBI ha chiuso il caso delle e-mail e ha assolto la Clinton. La decisione ha mandato su tutte le furie il rivare alle presidenziali Trump e i repubblicani mentre Obama appunto è sceso in campo per sostenere la candidata. E poi l'ipotesi su MPS, capitale pubblico per l'emergenza, banche dunque le precauzioni del tesoro. Restando ancora sul Corriere della Sera, ma scendendo in taglio basso. Un altro titolo ci informa, riguarda la scienziata capua prosciolta, ma la ferita non se ne andrà. Così dunque la scienziata capua che era accusata di traffico di virus, si è già trasferita negli Stati Uniti. E poi vediamo anche una fotografia sul Corriere della Sera di Silvio Berlusconi, è stato dimesso dal San Raffaele. Berlusconi a casa è Berlusconi che ha detto ho ceduto il Mila. Passando sulla Repubblica, la prima pagina della Repubblica, in primo piano le banche, il terremoto MPS, il tesoro che dice pronto lo scudo. Titoli a picco, in borsa, imminente un accordo europeo anti speculazione. Poi sempre tentazione nel CD, la politica, mollare Renzi non ci difende sull'inchiesta, giustizia, dunque la crica voleva gli appalti, abbiamo visto Legnini, ora Lotti mette in primo piano la Repubblica. In taglio alto anche un caso che sta facendo discutere, vedremo i titoli su questo, anche su altre testate, una sentenza legittimo colpire le pensioni d'oro. La consulta respinge i ricorsi contro il prelievo sopra i 91 mila euro. Sempre sulla Repubblica, in primo piano anche la morte di un giovane americano nella capitale, uno studente americano gettato nel Tevere, è stato accusato un senza tetto di questo, così è morto Bo nel cuore di Roma. Sempre su questa prima pagina, in taglio basso, il caso della scienziata Capua, prosciolta dunque dopo 12 anni, il dettaglio in più che leggiamo in questo titolo della Repubblica e poi anche la sentenza che ha riguardato Hillary Clinton, l'FBI che l'ha assolta riguardo al caso delle mail private. Passando al manifesto, l'apertura è questa, Calenda Scopio, come sempre il gioco di parole proposto dalla testata. Per la Francia la firma del TTP è impossibile entro la fine dell'amministrazione Obama. Nello stesso giorno, tra le informazioni riportate in questo titolo al manifesto, si decide che il trattato tra Unione Europea e Canada sarà vagliato dai singoli parlamenti. Un successo, leggiamo, delle mobilitazioni in tutto il mondo. Chi non ci sta è Roma pronta a prendere il ruolo di Londra nell'Alleanza. E un'altra informazione in questo titolo del manifesto, nell'Alleanza con gli Stati Uniti, il ministro dello sviluppo economico, Calenda, che dice pagheremo in competitività. Restando sempre sul manifesto, andiamo più in basso, un'altra notizia centrale della giornata di oggi è il rientro delle salme delle vittime italiane dell'attentato in Bangladesh, la strage di Dhaka, il triste ritorno delle vittime italiane dunque. E poi si riflette sul fatto che sia stato ucciso un cuoco nel blitz scambiato, erroneamente, per un terrorista. Ovviamente noi approfondiremo tra poco, attraverso anche le pagine locali, vedendo anche delle fiaccolate fatte nel territorio in ricordo delle due vittime friulane. Intanto restiamo sul manifesto e scendiamo in taglio basso. In primo piano sempre la decisione della consulta sulle cosiddette pensioni d'oro e altri titoli non visti. Governo napolitano in soccorso di Renzi, tensione alle stelle dentro NCD. Comune di Roma tra veti e litigi, forse la giunta raggi c'è e poi dati Istat, 80 euro non bastano, cresce la sfiducia e consumi al palo. Il manifesto ci informa ancora sulla Francia, inoltre sulla Loa Travaile. Valsa, zittisce ancora il Parlamento, la legge sul lavoro approvata. È il titolo che leggiamo in questa prima pagina del manifesto. Passando adesso a Libero, in primo piano Silvio Berlusconi, la sua uscita, lo stato di salute e anche la sua fase di recupero, Silvio pensa alla salute, infatti è il titolo che leggiamo. Passerà l'estate in ritiro. Berlusconi che è tornato ad Arcore per la riabilitazione, riunioni di lavoro vietate, fa presente Libero, con lui solo pochi fedelissimi, non andrà a Roma per mesi. Unico obiettivo, battere Renzi al referendum per costringerlo a trattare e poi sempre l'aspetto ovviamente riguardante il Milan, la vendita del Milan e con dispiacere chiude l'epoca Milan, scrive Libero, è venduto, i cinesi investiranno 400 milioni. L'ulteriore informazione che leggiamo in questo titolo. E poi un'immagine della Meloni, raccolgo firme per fermare le stragi, l'integralismo islamico deve essere reato, così appunto in primo piano su questa testata. Passando al giornale, la sentenza della consulta sulle pensioni d'oro in primo piano, il titolo riservato dal giornale a questa sentenza, i giudici legittimano la rapina sulle pensioni. E poi sempre su Berlusconi, titolo una prova dolorosa, dunque Berlusconi torna a casa e prepara la rivincita e le inchieste riguardo anche la capitale, maggioranza un passo dalla crisi, il titolo al giornale, inchieste velenial, fanno una bomba pronta a esplodere nel governo Renzi. Così, sul giornale. Noi adesso però siamo pronti a passare anche alle prime pagine dei quotidiani di carattere locale. Iniziamo il nostro confronto dal Messaggero Veneto, partiamo dall'edizione per quanto riguarda Udine e Provincia. Ovviamente in primo piano l'abbraccio della collettività, delle comunità a Cristian e Marco. Ci sono state ovviamente le fiaccolate in ricordo delle due vittime friulane a Cordovado e anche a Feletto Umberto. L'abbraccio dunque alle due vittime. Il presidente Mattarella ha accolto le salme degli italiani trucidati dai terroristi islamici a Dacca. Vediamo un momento della moglie di Cristian Rossi, il manager dunque di 47 anni che ha lasciato oltre a lei le due gemelline di tre anni, come ci ricorda il Messaggero Veneto. Ci sono ovviamente tante informazioni su questo arrivo. L'arrivo a Ciampino, lo strazio dei familiari davanti alle bare a volte nel tricolore, e poi le indagini finiscono in cella anche i parenti degli assassini e appunto la solidarietà e il dolore durante le fiaccolate che si sono tenute nella serata di ieri a Feletto e Cordovado. Andiamo dunque nelle pagine 2, 3, poi anche 4 e 5 per maggiori informazioni ovviamente sul rientro delle salme. Ricordiamo 9, le vittime italiane dell'attentato a Dacca, di cui 2 friulane, le vittime dunque il ritorno delle salme e l'abbraccio dell'Italia intera. Ecco qua alcune immagini che si riferiscono proprio al rientro dei corpi dei nostri italiani. Ieri sera è avvenuto dunque il riconoscimento ufficiale dei deceduti, ci informa il Messaggero Veneto, poi i primi esami. Oggi sarà invece il giorno dell'autopsia. Leggiamo qualche riga iniziale dell'articolo di Elena Del Giudice. Cristian e Marco sono tornati in Italia, non come avrebbero voluto, come avevano progettato, come desideravano o come speravano le loro famiglie. Rientro in patria è avvenuto all'interno di due bare di noce chiaro, avvolte nel tricolore. Insieme a loro le altre 7 vittime italiane della follia terroristica consumata sia a Dacca, capitale di Bangladesh, nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana. Ecco dunque che i feretri contenenti i resti di nuove vittime sono giunti dall'Asia a bordo di un Boeing 767 che ha atterrato a Ciampino verso le 19. Leggiamo ancora ad antendergli ovviamente i rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto i familiari, gli amici. Ovviamente è un momento denso di dolore e di commozione. A pochi metri di distanza il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dopo un momento in prima fila per testimoniare la vicinanza e la solidarietà dell'Italia intera ai parenti delle vittime della strage, ha preferito dunque lasciare spazio al dolore personale di ogni singola famiglia. Una solidarietà, quella del Paese, che non sarà solo simbolica, ci informa ancora la giornalista. Ho preso con il Presidente Mattarella, ha fatto sapere il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, l'impegno a nome del Governo ad assicurare che i benefici previsti dalla legge per le vittime del terrorismo si applichino ai nostri caduti all'estero. Un impegno doveroso, ha detto Gentiloni, di fronte a episodi come quello della strage di Dacca. E poi ovviamente ci sono vari aspetti riguardanti questo arrivo doloroso e tante anche immagini riguardanti questi momenti di ieri sera. C'è anche le immagini riguardanti la moglie di Cristian Rossi, come vediamo. E anche il sindaco di Cordova era presente in quel momento. Strage di Dacca, dunque abbiamo visto nel richiamo, nella prima pagina del Messaggero Veneto, nuovi arresti, in carcere i parenti dei terroristi, i genitori e un fratello di due membri del commando sono stati prelevati dalle loro case. Nel Brizze delle Forze Speciali poi è rimasto ucciso anche un pizzaiolo bengalese. Girando ancora pagina, andando all'interno, a pagina 4 e 5, ancora più dunque, a Tavagnacco e a Cordovado, le due fiaccolate, vediamo un'immagine. Partiamo da Tavagnacco, ecco qua, le numerose persone che si sono riunite per testimoniare la vicinanza alla famiglia di Cristian Rossi e anche per offrire solidarietà anche concreta materiale, perché sono state raccolte delle donazioni proprio per supportare la famiglia in questo difficile momento, ovviamente nei prossimi mesi. Vediamo anche le immagini che abbiamo girato proprio ieri sera, abbiamo mostrato anche nel corso di Viceversa la diretta, il nostro collogamento dal territorio proprio da Feletto Umberto con la testimonianza di Davide Zaniratto. Vediamo dunque le immagini e questa grandissima partecipazione, questo attestato di solidarietà che c'è stato ieri nel centro di Feletto Umberto. Io propongo alla regia ancora di mandare le immagini, intanto ovviamente proseguo leggendovi altre parole della giornalista, di un'altra giornalista, Michela Zanutto, del Messaggero Veneto. Riconoscete a Cristian lo status di vittima del terrorismo e questa è la richiesta che Cristina Collavin, sorella della moglie Stefania, ha presentato ieri alla presidente Deborah Serracchiani in nome di tutta la famiglia dell'imprenditore friulano ucciso ad H. Un incontro durato una decina di minuti fra le istituzioni e la numerosa famiglia Rossi-Collavin. Un istante per condividere il dolore a quattro occhi, prima di condividerlo con tutta la comunità, perché ieri sera dunque a Feletto, davanti al palazzo comunale, si sono riunite oltre mille persone, uomini, donne e bambini, che tutti insieme, silenziosamente, scrive la collega, hanno testimoniato la propria vicinanza a una sofferenza incontenibile. È assurda. Ad aprire il corteo dunque c'era la famiglia di Cristian, unita a formare quasi un muro intangibile contro il male. Abbracciati, stretti mano nella mano, si sono sostenuti vicendevolmente lungo tutto il tratto fino alla chiesa di Sant'Antonio, Abate. E ci sono le testimonianze ovviamente di alcuni parenti, alcuni conoscenti di Cristian. E appunto viene fatto presente, come sia stato presente anche varie autorità, tra cui la governatrice Deborah Serracchiani. L'ultimo saluto, un'altra informazione di cui ci informa il Messaggero Veneto, è stata allestita in municipio la Camera Ardente, è ancora incerta la data dei funerali, scrive nel titolo il Messaggero Veneto, potrebbero essere celebrati venerdì da Monsignor Mazzoccato. Dunque, leggiamo qualche informazione in più. Oggi, come detto, sarà il giorno dell'autopsia al Policlinico Gemelli e poi, il prima possibile, la famiglia vorrebbe riportare Cristian Rossi nel suo friuli. Il feretro, scortato dall'amore della moglie Stefania, insieme con le sorelle, potrebbe raggiungere Udine già nella tarda serata di oggi. Almeno questo è l'auspicio della famiglia. In questo caso, le eseque potrebbero essere celebrate venerdì alle 17 nella chiesa parrocchiale di Fretto Umberto, la chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate. Ma a celebrare con tutta probabilità non sarà Don Leschiutta, che aveva battezzato le figliolette Cristian Rossi. Troppo il peso da sopportare per un'altra giovane vita era spezzata nella sua comunità. Nei giorni scorsi aveva ricordato che si era trovato a ufficiare i funerali di due giovanissime ragazze, l'una di 16 anni e l'altra di 25, strappate alla vita, la prima da una malattia e l'altra da un incidente stradale. Con tutta probabilità a celebrare l'eseque sarà quindi Monsignor Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine. Passando invece a Cordovado, anche qui dolore e solidarietà, lungo le vie del paese leggiamo e vediamo anche un'immagine relativa appunto al territorio di Cordovado dove oltre 2.000 persone, ci informa il Messaggero Veneto, hanno partecipato alla fiaccolata in ricordo di Marco Tondat. Dunque lungo le vie del paese, assieme ai familiari dell'imprenditore, è presente una ventina di sindaci e il vicepresidente della regione. Anche qui quindi una grande dimostrazione di vicinanza alla famiglia anche di Marco Tondat. In 2.000 per Marco ha pagato con la vita disegni assurdi e fogli, è il titolo del Messaggero Veneto. Il cordoglio della vice sindaco espresso alla madre dell'uomo, Bolzonello, che afferma è arrivata l'ora di una reazione internazionale. In taglio basso ha un altro titolo, con l'occhio toccante, la richiesta a Mattarella, Vogliamo la Verità, il fratello di Marco, Fabio, ha parlato con il capo dello Stato, il sindaco Toneguzzo ci ha rincuorati. Andiamo dunque a leggere ancora qualche informazione in più su questo confronto col presidente della Repubblica. Presidente, vogliamo sapere com'è andata davvero e la richiesta dunque che il fratello di Marco, Fabio Tondat, ha rivolto ieri al presidente, al capo dello Stato. Un colloquio che ha coinvolto anche il sindaco di Cordovado, Francesco Toneguzzo, che ha accompagnato Fabio nel suo strazzante viaggio a Roma. Ieri è stato per tutto il giorno vicino al fratello della vittima per confortarlo nel giorno dei ritorni in Italia della Salma di Marco. Fabio ha voluto chiedere dunque al capo dello Stato di conoscere la verità su quanto è accaduto ad H. Il caso Regeni, da questo punto di vista, non autorizza l'ottimismo, ma Mattarella ha risposto con chiarezza a Fabio, garantendo il massimo impegno da parte delle istituzioni. Così il messaggero Veneto. Andiamo a leggere anche informazioni riguardo al funerale anche di Marco Tondat. A conclusione della cerimonia Ciampino, appunto il fratello di Marco è stato raggiunto al telefono e ha confermato che entro sabato Marco sarà riportato a casa. Sabato è previsto infatti il funerale. I tempi per l'emissione del nulla osta da parte della Procura sono piuttosto stretti, anche se ieri sera al Gemelli sono subito cominciati gli esami dunque autoptici e il nulla osta per i funerali è atteso entro domani. La data dell'eseque non dovrebbe essere dunque in discussione, così ci informa il messaggero Veneto. Ritorniamo comunque sulla prima pagina per vedere anche altre informazioni riguardo altre notizie di cronaca e in taglio basso si parla di un altro funerale, il funerale impossibile di Lidia, una storia molto toccante. Prima mancano i soldi, poi si mette di mezzo pure la burocrazia. Versagliata dalla vita, Lidia Mezzogori è morta sola a 61 anni in un appartamento a Santosvaldo. Il suo corpo è stato trovato dopo alcuni giorni dal decesso solo perché un fattorino della pizza in arrivo ha dato l'allarme. Andiamo a leggere qualcosa di più di questa storia di Lidia dove adesso si sta cercando ovviamente di darle ancora sepoltura perché Lidia, la sua assurda morte è Lidia appunto senza un funerale. Questo è un vero e proprio dramma della solitudine. Dunque tra povertà e burocrazia da un mese Lidia aspetta la sepoltura, il parroco che afferma pago io, ma la procura così spiega, non rilascia il nulla a osta e ci sono appunto alcune immagini che si riferiscono alla donna a Lidia Mezzogori dunque trovata senza vita nell'abitazione dove viveva appunto protagonista di questo cosiddetto vittimo del caso dramma della solitudine. Dunque adesso la salma aspetta da più di un mese sepoltura i miei parenti un anno e mezzo per sostenere le spese del funerale lo farà la parrocchia guidata da Don Giaiotti ma ora a canirsi nei confronti di Lidia non è più la vita ma anche la burocrazia perché non è stato dunque ancora lasciato il nulla a osta. Restiamo nelle pagine interne del messaggero Veneto per altre notizie in primo piano per quanto riguarda Udine parliamo di migranti fa discutere ancora i disordini anche in città le tensioni le tensioni tra gli stessi migranti che ci sono state anche di recente centinaia di profughi saranno trasferiti la promessa del Viminara all'assessore regionale Torrenti ieri a Roma troppi 800 richiedenti alla Cavarzerani non si può andare oltre i 250 andiamo dunque ecco vediamo alcune immagini della Cavarzerani andiamo a leggere qualche riga in più dell'articolo di Cristian Rigo altre centinaia di profughi lasceranno presto dunque la Cavarzerani e il Friuli Venezia Giulia ad assicurare il massimo impegno deviminale per trovare una soluzione anche al sovraffollamento in particolare di Udine è stato il capo del Dipartimento Libertà Civile e Migrazione del Ministero dell'Interno Mario Morcone che dunque ieri ha incontrato l'assessore regionale all'immigrazione Torrenti un incontro programmato all'ultimo dopo la rivolta scoppiata alla Cavarzerani siamo molto preoccupati a Mette Torrenti e purtroppo lunedì si sono palesate le conseguenze di criticità note a tutti che è legati al numero di presenze nell'ex caserma per questo motivo Torrenti ritiene che non si possa più aspettare anche perché il problema ha spiegato era già stato denunciato più volte dalla Regione e Viminale era intervenuto con i primi trasferimenti che si sono concretizzati nei giorni scorsi 100 migranti hanno raggiunto la Lombardia viene ricordato in questo articolo da dove ovviamente non erano mancati poi gli attacchi politici rivolti alla governatrice Serracchiani viene spiegato che secondo l'assessore Lombardo la sicurezza protezione civile e migrazione in quella circostanza avrebbe ricevuto un ennesimo favore così appunto spiega il messaggero Veneto dal premier Matteo Renzi e poi ovviamente ci sono altri aspetti legati a questa presenza di migranti in taglio basso in commissione la Lega Ponte Aereo con l'Afghanistan la maggioranza chiede il rispetto delle quote tra i comuni e le regioni e nella pagina accanto restando sempre su questa tematica dei migranti Ramadan senza wifi il comune lo spegne e il caso torna in giunta si riparlerà anche dell'opportunità di installarlo in caserma ci informa il messaggero Veneto ma la priorità è l'elevato numero di stranieri da gestire e poi in taglio alto c'è anche questo titolo che riguarda il questore vertice sulla sicurezza il questore che parla di stretta sui controlli e regole più rigorose le decisioni ieri dopo la rissa tra i migrati massima attenzione oggi anche per la festa di fine digiuno andiamo a leggere anche qui qualche informazione in più dunque la prima e più importante risposta è arrivata lunedì mattina a pochi minuti in via Cividale sono arrivati una ventina di mezzi tra polizia carabinieri di guardia di finanza e municipale lo scontro tra profughi all'interno dell'ex caserma rischiato di degenerale solo l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha riportato la calma ma per sedare la rivolta ci sono volute due ore di trattative con agenti militari schierati in tenuta antisommossa ovviamente si ripercorre ancora con ulteriori dettagli questo episodio e appunto ci sono le parole del questore che dice al momento la situazione è sotto controllo lui dice è stato un ottimo coordinamento e nostra intenzione restituire ai cittadini la percezione di sicurezza a cui erano abituati quindi abbiamo deciso tutta una serie di interventi e ci sono due particolari fronti di intervento come viene spiegato in questo articolo da un lato sono pronti a scattare provvedimenti che vanno anche al di là della semplice perdita del diritto dell'accoglienza fogli di via e denunce per tutte le persone che si renderanno protagonisti di comportamenti non scusate andiamo in alto non rispettosi della legge e delle regole dall'altro si sta valutando anche una modifica delle regole generali di convivenza all'interno dell'ex caserme controlli dunque più rigolosi anche per quanto riguarda gli ingressi e le uscite dalla struttura di via Cividale ritorniamo nella prima pagina al messaggero Veneto per altre informazioni c'è il caso anche di un incidente un inferno in A4 leggiamo muore politico della Lega chilometri di coda casati da questo incidente con un auto e un camion che hanno anche preso fuoco come vediamo noi su questa notizia andiamo a rivedere proprio un servizio realizzato per il telegiornale di ieri sera da Francesca Santoro Trave incidente sulla A4 e di un morto e due feriti il bilancio del sinistro è avvenuto tra i caselli di Latisana e Portogruaro in direzione Venezia un auto ha tamponato un auto articolato telonato che trasportava materiale ferroso per poi finire incastrata sotto di esso in mezzo pesante nell'urto ha preso fuoco tanto da essere completamente distrutto dalle fiamme così come la vettura il conducente della macchina è morto i due passeggeri sono rimasti feriti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco in forze arrivando dalla Tisana San Vito Lignano Portogruaro e Mestre con 5 e mezzo antincendio e una ventina di operatori per domare le fiamme i feriti sono stati soccorsi dal 118 sul posto è arrivato anche l'elicottero Drago 82 del reparto volo di Venezia Autovie ha istituito l'uscita obbligatoria alla Tisana e ha chiuso l'entrata in direzione di Venezia è stato inoltre attivato il percorso alternativo la Tisana a Portogruaro con rientro in autostrada a Portogruaro ma i provvedimenti non sono bastati a evitare la formazione di una lunga coda con punte che hanno raggiunto i 16 chilometri le operazioni di messa in sicurezza del tratto comprese pulizia e riasfaltatura sia in marcia sia in emergenza sono state avviate nel pomeriggio il traffico ha quindi potuto scorrere solo sulla corsia di sorpasso la pagina dei Pordenone per quanto sempre attraverso il messaggero Veneto altre notizie anche qui ovviamente oltre a esserci la notizia d'apertura sul ritorno di Cristiano e Marco in Friù in Italia e poi si astendono anche qui nel territorio cronache profughi internet anche qui in primo piano wifi presto servirà il codice stop ai bivacchi e poi caos e coda appunto l'incidente in A4 in taglio basso la campagna allarme truffe gli anziani vanno a lezione in taglio basso una curiosità riguardo a Carnera Carnera sulle bustine di zucchero la storia del pugile in dieci scatti per promuovere il Friuli e passando invece al taglio altro altre informazioni non ancora viste la nuova costituzione Ceccotti la riforma cancella una parte di storia del Friuli e poi Regione Sanità niente referendum e Bagar in Consiglio e ancora dopo l'inchiesta opera i vidoni allo stremo sono senza paga da cinque mesi spostiamoci adesso sulla prima pagina del piccolo dove in primo piano sempre la sanità come vediamo sanità riforma salva per un voto il Consiglio regionale dunque niente referendum ma il centro-sinistra si spacca e poi oltre al caso dell'incidente sulla 4 di cui vediamo un'altra immagine tra le notizie principali andiamo in taglio alto è stata presentata l'edizione 48 della Barcolana una Barcolana maxi titola il piccolo 10 giorni di eventi sulle rive e nei rioni e ancora restando sul piccolo sulla prima pagina di spalla altri titoli nuova giunta di Trieste Giorgi si smarca celebrerò le unioni gay e poi il caso bonus povertà in ritardo parte la prima denuncia le novità dell'estate su Porto Piccolo la calata dei milionari stranieri restando sempre su questa prima pagina del piccolo in primo piano anche l'Istria patuglie da 5 paesi per la sicurezza dei turisti e poi per l'Austria presidenziali ritorno al voto con il nodo degli scrutatori per lo sport il titolo è Italia stratosferica la Croazia si arrende si parla di basket e preolimpico a Torino così su questa prima pagina del piccolo passando alla gazzettino invece la prima pagina ovviamente il caso nazionale che ha travolto il ministro Alfano ministeri e tangenti il caso Alfano andiamo a leggere il ritorno ovviamente anche delle vittime italiane anche qui vediamo un'immagine del rientro dei feretri di ieri in Italia andiamo a leggere altre notizie riguardanti il territorio militare statunitense festeggia il 4 luglio poi scompare si cerca nel fiume Sacile non si trova più da domenica dopo un diverbio dunque mobilitazione a Sacile per cercare il giovane del quale non si hanno tracce da domenica secondo quanto si è preso avrebbe lasciato la compagnia dopo un diverbio il giovane 25 anni residente a Sacile ed è stato visto l'ultima volta insieme alle amici a San Michele e gli è stato scandaliato il fiume ancora a Pordenone crisi la ripresa viaggia in automobile così è il titolo sul gazzettino e poi restando sempre in questa prima pagina e restando sempre a Pordenone anche qui dunque si fa presente il wifi anche per i migranti stop al wifi per sloggiare i profughi bufera sul sindaco ma lui va avanti le opposizioni parlano di metodi da sceriffo andiamo ancora in taglio alto San Vito residenti pronti alla guerra contro l'allevamento di Pogli e poi Aviano aggredisce albergatore e carabinieri arrestato è arrivato il momento di salutarci però prima uno sguardo veloce anche alla programmazione principale prevista per oggi da Udinese TV spostiamoci nel box dedicato dunque all'interno delle pagine degli spettacoli del messaggero Veneto come leggiamo assieme tra i vari appuntamenti dunque alle 12 c'è la conferenza stampa del mister Beppe Iacchini incontra i giornalisti nella sala stampa della Dacia Arena ci sarà anche una replica alle 22.15 e poi alle 17.30 lo speciale ritiro con le immagini in esclusiva della preparazione bianconera con interviste e collegamenti in diretta dal centro di allenamento Bruseschi alle 21 l'appuntamento con il perbenista la tematica di questa inchiesta è tempi e costi della giustizia ovviamente il programma è condotto da Marco Belviso con questo è tutto per la rassegna cronaca adesso come sempre un breve break e poi spazio al collega della rassegna sportiva grazie per l'attenzione e restate con noi grazie per l'attenzione